La seconda epistola di Paolo Apostolo ai Tessalonicesi Capitolo 1 Paolo, Silvano e Timoteo alla chiesa dei Tessalonicesi, che in Dio nostro Padre e nel Signore Gesù Cristo. Grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. Noi siamo in obbligo di rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli, come è ben giusto che facciamo, perché cresce sommamente la vostra fede e abbonda vi è più l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri, in guisa che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio a motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che voi sostenete. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio affinché siate riconosciuti degni del regno di Dio per il quale anche patite, poiché è cosa giusta presso Dio il rendere a quelli che vi affliggono afflizione. E a voi che siete afflitti requie con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto e in voi pure, poiché avete creduto alla nostra testimonianza dinanzi a voi. Ed è a quel fine che preghiamo anche del continuo per voi, affinché l'Idio nostro vi reputi degni di una tale vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede onde il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui secondo la grazia dell'Idio nostro e del Signore Gesù Cristo. Capitolo 2 Ora, fratelli, circa l'avvenuta del Signor nostro Gesù Cristo e in nostro adunamento con Lui vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche pistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore sia imminente. Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia avvenuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figliuolo della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio o d'oggetto di culto, fino al punto di porsi a sedere nel Tempio di Dio mostrando se stesso e dicendo che Egli è Dio. Non vi ricordate che quando era ancora presso di voi io vi dicevo queste cose? Ed ora voi sapete quello che lo ritiene, onde Egli sia manifestato a suo tempo, poiché il mistero dell'impietà è già all'opera. Soltanto Vecchiora lo ritiene e lo riterrà finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'impio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'impio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi e con ogni sorta di inganno, di iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. E perciò Dio manda loro efficacia d'errore onde credano alla menzogna affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati. Ma noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di voi a Dio, fratelli amati dal Signore, perché il Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello spirito e la fede nella verità. A questo Egli vi ha pure chiamati per mezzo del nostro Evangelo onde giungiate a ottenere la gloria del Signor nostro Gesù Cristo. Così dunque, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi sia con la parola sia con una nostra epistola. Ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e il Dio nostro Padre che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Capitolo 3 Del rimanente, fratelli, pregate per noi perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata com'è tra voi e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi poiché non tutti hanno la fede. Ma il Signore è fedele ed Egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. E noi abbiamo di voi questa fiducia nel Signore che fate e farete le cose che vi ordiniamo e il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente aspettazione di Cristo. Ora, fratelli, noi vi ordiniamo nel nome del Signor nostro Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si conduce disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Poiché voi stessi sapete com'è che ci dovete imitare perché noi non ci siamo condotti disordinatamente fra voi né abbiamo mangiato gratuitamente il pane d'alcuno ma con fatica e con pena abbiamo lavorato notte e giorno per non essere da gravio ad alcuno di voi. Non già che non abbiamo il diritto di farlo ma abbiamo voluto darvi noi stessi ad esempio perché ci imitaste. E in vero quando eravamo con voi vi comandavamo questo che se alcuno non vuole lavorare neppure deve mangiare perché sentiamo che alcuni si conducono fra voi disordinatamente non lavorando affatto ma affaccendandosi in cose vane. A quei tali noi ordiniamo e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo che mangino il loro proprio pane quietamente lavorando. Quanto a voi fratelli non vi stancate di fare il bene e se qualcuno non ubbidisce a quello che diciamo in questa epistola notatelo quel tale e non abbiate relazione con lui affinché si vergogni. Però non lo tenete per nemico ma ammonitelo come fratello. Ora il Signore della pace vi dia egli stesso del continuo la pace in ogni maniera. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia propria mano, di me Paolo. Questo serve di segno in ogni mia epistola. Scrivo così. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.